Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video e ancora in una nuova location, mi sono appropriata della camera di mia sorella per parlarvi in realtà di un argomento molto poco carino e molto poco adatto a questo ambiente, ovvero la corsa agli armamenti. In realtà questo video appartiene, è il primo di una serie più ampia dedicata agli avvenimenti più importanti della storia contemporanea in vista anche del, non imminente perché manca ancora un botto, esame di maturità. In età prebellica, a partire dal 1880 sino al 1914, ci fu la cosiddetta corsa agli armamenti, intrapresa dalle maggiori potenze europee e non solo. Tra il 1800 e il 1900 l'Europa vive in una condizione che con il senno di poi definiremmo la quiete prima della tempesta. Infatti gli stati europei vivono in uno stato di tensione, da una parte vige la politica dell'equilibrio di Otto von Bismarck, dall'altra avviene la competizione tra i vari stati europei sul terreno degli interessi economici globali, in più sia nel periodo di acceso imperialismo, nazionalismo e militarismo e quindi ciao ciao equilibrio. Una delle prime nazioni che si pose nell'ottica di una corsa agli armamenti fu la Germania. Nel 1890 il Kaiser Guglielmo II licenzia Bismarck, il padre della politica dell'equilibrio. Così si rimbocca le maniche e dice a Guglielmo II, diamoci dentro con la produzione bellica. Per prima cosa decide di entrare in competizione per il controllo dei mari con la regina dei mari, la regina per eccellenza, ovvero la Gran Bretagna. Così dà via un notevole programma di riarmo navale alla costruzione di una potente flotta che nei disegni e nei sogni di Guglielmo II avrebbe dovuto, prima o poi, più prima che poi, competere davvero con quella britannica. Il riarmo navale tedesco avviene tutto sotto l'attenta e severa guida dell'amiraglio von Tirpitz. Ma quali sono le reali motivazioni che spingono Guglielmo II a dare avvio a quella che poi sarà definita più generalmente Weltpolitik, ossia politica mondiale, in altre parole una politica estremamente aggressiva che mina gli equilibri geopolitici mondiali? Quindi quali furono queste reali motivazioni? La volontà di essere militarista, ad esempio, dare enorme importanza alla politica militare, alla propria forza militare, la volontà di essere imperialista. Diciamo che non le era bastato squartare l'Africa fino al midollo, insieme alle altre potenze europee. Ma ci fu anche una terza motivazione, la cosiddetta sindrome di accerchiamento. Guglielmo II, praticamente, ovunque si girasse, vedeva delle potenze a lui ostili. Da una parte c'era la Russia, da una parte c'era la Francia, tutte direttamente o indirettamente alleate con la suprema nemica in quel momento, ovvero l'Inghilterra. Infatti, dobbiamo un attimo pensare alle nazioni come corpi che si espandono, sia territorialmente, sia economicamente, sia militarmente. Ognuna vuole avere il primato all'interno dello scenario internazionale e quindi ognuna fa di tutto per poterlo avere. Il riarmo finì per coinvolgere, chi più, chi meno, tutti gli stati europei e non solo. Ad esempio l'Italia, che però non è stata al passo con le altre, oppure, per non parlare solo di Europa, anche il Giappone. La corsa agli armamenti finì per succhiare ingenti risorse dal bilancio pubblico degli stati, circa il 20-25%, e parlando in termini numerici il tutto è assolutamente spaventoso. Ad esempio, tra il 1880 e il 1914 la Gran Bretagna registra un incremento del tonnellaggio di navi da guerra del 317%, la Francia del 232% e la Germania del 1383%. Ah sì, la famosa competizione pacifica.